benvenute allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 4 del libro shake vaido fino al 16 aprile del 2019 allora album interamente dedicato al detox e quindi vedremo subito i set promozionali per il viso poi sette sfoglianti per il viso e per il corpo poi sette anche shampoo più balsamo insieme perché no le promozioni pasquali con i set dedicati che sono davvero interessanti e per finire anche le novità make up il fondotinta e le promozioni del suo fondotinta con primer abbinati oppure fondotinta con la cipria abbinata in base al tipo di fondotinta quello più adatto direi di iniziare subito a sfogliare allora questa è la copertina iniziamo subito a sfogliarlo dunque prima promozione tutto a tema detox perché acquistando e di qualunque linea il siero oppure il trattamento giorno di qualunque linea sia il detergente viso scontato del 40 per cento quindi tra tutta la linea elixir regionessa eccola qua ovviamente anche la riche creme anti age global eccoli serum vegetale tutte le varie linee poi il beauty routine sono i de set detox e de sfoglianti quindi set detergente purificante sebo vegetale più la polvere sfogliante viso chiarate da utilizzare quel detergente a 12 95 oppure quello detergente freschetta sempre con la polvere sfogliante viso vediamo ora la promozione della coppiata perfetta make up e primer in questo caso abbiamo con l'acquisto del fondotinta sia il primer che illuminante a 5 euro invece di 14 95 allora i fondotinta sono questi intanto intanto c'è la novità perché il pelle perfetta adesso ha la protezione 30 SPF 30 poi giovinezza radiosa e ora il zero def ha anche una novità intanto si veste di nuovo packaging perché eccola qua quello in crema ha un nuovo pack e poi c'è anche quello comfort con il tubo da 30 ml che è il fondotinta in crema ad alta coprenza se no per la linea in questo caso la linea matte il fondotinta super matte e il fondotinta pur light acquistandola si ha la cipria a solo 6 euro tra le colorazioni eccole qui tutte quante quindi e 6 euro invece di 16 95 è davvero una buona promozione il fondotinta super matte è davvero opacizzante oppure il pur light che ha una texture leggera vediamo ora la beauty routine per il corpo perché è sfogliante più anticellulite in questo caso il set comprende il 17 95 il gommage vegetale più l'idratante quotidiano anticellulite oppure 12 95 sempre il gommage più il latte idratante oppure c'è il latte nutriente sempre col gommage a 12 95 sempre eccolo qua abbiamo anche a 12 95 il set con il gommage e il latte nutriente intenso quello per pelli molto secche vediamo ora la beauty routine per i capelli perché 5 95 si hanno il set di shampoo più balsamo quindi scegliete tranquillamente il balsamo che volete con il codice rosso a cui aggiungere lo shampoo che preferite con il codice nero solito tutti e due 5 95 ovviamente tra tutti questi, tutti quanti, eccoli qua poi abbiamo il set pasquali 7 95 il set che possono essere prendiamo questo ad esempio che è quello al cocco che ha la confezione più il sapone liquido per le mani il bagno doccia da 200 ml la crema a mani eccola qua da 30 ml oppure il set mango coriandolo il set vaniglia barbon sempre uguali qui abbiamo 9 95 invece quindi il set prendiamo questo che comprende la pochette questa chiamano pochette più l'olio doccia da 200 ml e il latte corpo da 390 ml oppure la profumazione mandorle suoi d'arancio nocci di cocco oppure olive petite grain ultima set che propongono 12 95 I love my planet perché comprende 4 gel doccia concentrati nelle profumazioni eccole qua olive petite grain mango coriandolo vaniglia barbon e milograno e pepe rosa e questo era tutto l'album abbiamo sfogliato tutto l'album avete visto tutte le promozioni le offerte le novità vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è sempre il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini vi ricordo anche sempre che c'è il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti buona Pasqua ed buone feste con il Magico Atturale Mondo di Brochet grazie a tutti